Buongiorno ragazzi, seconda lezione su Carlo V, le vicende del grande imperatore di Germania e contemporaneamente re di Spagna e contemporaneamente duca delle Fiandre e contemporaneamente duca di Milano, re di Napoli eccetera, Carlo V, d'accordo? Abbiamo chiuso la lezione precedente annunciando che vi sono ben quattro guerre tra Carlo V e il suo acerrimo, accanito, costante nemico cioè Francesco I, re di Francia. La prima di queste guerre inizia nel 1531 e l'iniziativa viene presa da Francesco I. Francesco I considera Carlo V un sovrano troppo potente da combattere a tutti i costi. Francesco I vede il suo territorio, la Francia, stretto in una morsa. Da una parte ci sono la Spagna e le ricchissime Fiandre, dall'altra ci sono i territori austriaci e l'impero germanico e in tutti questi territori governa Carlo V. Quindi Francesco I attacca Carlo V e la guerra. Purtroppo per noi italiani come tante altre guerre prima e dopo questa per secoli si svolge in territorio italiano, cioè il conflitto si svolge avendo come posta in palio in qualche modo il Ducato di Milano. Non c'è storia in questa guerra. Carlo V vince nettamente mostrando una netta superiorità militare. Francesco I viene sconfitto due volte, la prima nel 1522 alla Bicocca presso il castello della Bicocca vicino Milano e poi nel 1525 Francesco I viene sconfitto definitivamente a Pavia. Lo stesso Francesco I a seguito della battaglia di Pavia viene preso prigioniero e portato in carcere a Madrid. Durante questo periodo gli storici hanno sottolineato che vi sono anche dei cambiamenti proprio nel modo di fare la guerra. La guerra si basa sempre di più sull'artiglieria e sull'artiglieria che utilizza la polvere da sparo. I cannoni diventano sempre più piccoli, maneggevoli e perfezionati e ovviamente Carlo V avrà la prevalenza in queste in queste armi. Tutti quanti iniziano a utilizzare sempre più cannoni, sempre più armi con la polvere da sparo. Carlo V lo fa meglio degli altri anche perché forse è più ricco degli altri. Vengono inventate le mine, cioè quindi c'è un altro uso della polvere da sparo. E l'artiglieria, vengono inventate le armi portatili, cioè le pistole, appunto le armi che possono essere usate con una sola mano. Quindi ci sono delle evoluzioni, dei progressi, nell'arte militare, anche nella gestione degli assedi o anche nelle fortificazioni iniziano a essere utilizzate differenti e molto più sofisticate forme di fortificazione. Francesco I non vuole cedere a Carlo V, il quale, pensate, lo tiene prigioniero nel carcere di Madrid per ben 14 mesi, finché finalmente Francesco I non si decide a firmare la pace, a firmare un trattato di pace come quello che, il trattato di pace come con le clausole che Carlo V gli impone. Cioè un famoso resoconto di Francesco I in carcere naturalmente era pur sempre un re, una figura sacra. Fate attenzione che Carlo V credeva a certi valori, rispettava l'onore, l'onore militare, il giuramento. Cioè era una persona che ancora aveva dei valori forse un po' antiquati, abbiamo visto rispetto a personaggi spregiudicati, a noi sovrani spregiudicati. Carlo V non fa torturare, non fa trattare male Francesco I, che è un sovrano come lui, un sovrano che dal punto di vista della mentalità dell'epoca e della mentalità di Carlo V era diventato sovrano per volere di Dio, la sovranità veniva concessa da Dio, quindi era comunque una figura sacra. Quindi la prigionia di 14 mesi a Madrid da parte di Francesco I è comunque una prigionia di lusso. Lui sta comunque in una cella, però ha tutti i comfort, tutte le comunità, può anche ricevere degli ospiti, può gestire dei soldi. Francesco I esprime proprio qual è la mentalità anche feudale, aristocratica dell'epoca, da un punto di vista proprio ideologico, ma sapete che ha dei sacchi di monete e ogni tanto lancia una moneta verso le guardie, verso i propri carcerieri e si diverti a vedere i carcerieri, le guardie che lo guardano, che lo custodiscono, a vedere le guardie che si azzuffano tra di loro per afferrare la moneta. Carlo V in maniera molto seria, molto pacata, prende una moneta, quasi con disprezzo, con non curanza, senza neanche guardare verso le guardie, la getta verso di loro, dimostra in qualche modo, capite la sua superiorità, come dire io sono un re, io sono superiore a voi, voi mi custodite, voi siete i miei carcerieri, però siete comunque della nullità rispetto a me che sono un re e io ve lo dimostro, perché io vi lancio le monete e mi diverto a vedere voi che vi azzuffate per prenderle, dimostrando quindi che pur essendo prigioniero, io sono un re, sono un superiore anche psicologicamente e voi invece i miei carcerieri siete dei plebei, d'accordo, dei rozzini, in ogni caso a un certo punto Francesco I firma il trattato di pace all'inizio del 1526, il trattato di pace appunto di Madrid e viene rilasciato dalla prigionia. Fate attenzione, il trattato di Madrid è piuttosto duro per Francesco I, Francesco I deve rinunciare a Milano, che quindi viene conquistata da Carlo V, ok? A Milano tornano gli sforza, perché Carlo V fa tornare la dinastia cacciata da Francesco I, la fa tornare a Milano gli sforza, che quindi lascia Milano come i suoi vassalli, ma Carlo I da questo trattato si prende anche Genova, attenzione, è la Borgogna, per Borgogna intendo quel pezzo, ok? Proprio della Borgogna storica, che dalla divisione della Borgogna era rimasta alla Francia, vabbè un territorio agricolo di poca importanza, però insomma si tratta pur sempre di un pezzo di Francia, perché secondo voi Francesco I rispetta il trattato, rispetta il giuramento? Assolutamente no, una volta tornato a Parigi lui straccia il trattato di Madrid e insomma organizza una seconda guerra contro Carlo V. Carlo V non può capire questo, perché Carlo V era uno che credeva veramente, Carlo V era uno che rispettava i giuramenti, ok? Da questo punto di vista era davvero una persona apprezzabile. Carlo V apparteneva in qualche modo a un'altra epoca, Carlo V è sgomento di fronte a questi sovrani spregiudicati che siglano un trattato, fanno un giuramento e poi subito dopo se lo rimangiano infrangono il trattato e il giuramento. Comunque Francesco I organizza una coalizione, adesso lo vedremo per portare avanti quella che sarà la seconda guerra contro Carlo V. Carlo V che, attenzione, da un certo punto di vista, per certi aspetti, nello stesso anno del trattato di Madrid, 1526 si rafforza, però bisogna vedere perché questo rafforzamento è comunque un pericolo. Come ho già accennato nella lezione precedente, gli ottomani conquistano l'Ungheria sconfiggendo nella tragica battaglia di Moac, il re d'Ungheria Luigi II, gli agelloni, l'esercito ungherese, viene completamente sconfitto dal grande sultano Solimano in persona che fece ben 13 spedizioni per conquistare l'Ungheria. I potentissimi ottomani sconfiggono gli ungheresi, occupano l'Ungheria, Luigi II, l'ultimo re dell'Ungheria indipendente, Luigi II, gli agelloni, muore, attenzione, Luigi II era re di Ungheria ma contemporaneamente era anche re di Bohemia. Nel 1526, dopo questa ulteriore avanzata degli ottomani nei Balcani, attenzione, morto Luigi II, re sia di Ungheria sia di Bohemia, l'Ungheria e la Bohemia passano agli Asburgo, non nella persona di Carlo V, ma in quella di suo fratello, attenzione, Ferdinando. Ferdinando viene eletto, le corone sono ancora elettive, sia dalla dieta dei nobili ungheresi, sia dalla dieta dal Parlamento dei nobili boemi. Un po' perché gli ungheresi e i boemi hanno paura dell'arrivo degli ottomani lì sul Danubio, sia perché vengono corrotti dalla potenza economica, finanziaria degli Asburgo che abbiamo già assaporato nella prima video-lezione. E quindi, attenzione, gli Asburgo, anche se non direttamente Carlo V, ma suo fratello Ferdinando, ottengono anche le corone di Ungheria e di Bohemia che resteranno per lungo tempo tra i possedimenti asburgici e poi verranno sottomesse, diventeranno proprio delle corone ereditarie da parte degli Asburgo d'Asia. Ungheria, i nobili ungheresi e boemi eleggono Ferdinando d'Asburgo anche perché, attenzione, Ferdinando d'Asburgo era, come Carlo V, era imparentato con l'ultimo re appunto ucciso dagli ottomani a Moaccio Luigi II, perché Luigi II Iaggellone, attenzione, aveva sposato Maria, sorella, Maria d'Asburgo d'Austria, sorella sia di Ferdinando sia di Carlo V. E quindi anche per via di questo imparentamento dello Iaggellone e con gli Asburgo, della linea, diciamo, boemo-maggiara degli Iaggelloni, questo imparentamento degli Iaggelloni con gli Asburgo, che le corone di Bohemia e Ungheria finiscono agli Asburgo. L'imparentamento non riguardava soltanto Luigi II, ma vi erano stati altri, diversi altri matrimoni tra gli Iaggelloni, re di Bohemia e di Polonia e gli Asburgo d'Austria, anche a livello del padre di Luigi II Iaggellone, d'accordo? Anche riguardanti i parenti del padre di Luigi II Iaggellone. Quindi ovviamente gli ottomani sulla linea del Danubio sono molto molto pericolosi. Peraltro, fate attenzione, è vero che Ferdinando e il fratello di Carlo V si prende l'Ungheria e la Bohemia, però di fatto dopo pochi anni sarà ben chiaro che l'Ungheria, che la parte dell'Ungheria non occupata dagli ottomani, che quindi verrà chiamata anche Ungheria Reale, che inizia ad appartenere agli Asburgo d'Austria, è soltanto un quinto di quello che è il Regno d'Ungheria. L'Ungheria Reale, cioè un pezzettino di Ungheria con capitale Presburgo, viene annessa al territorio degli Asburgo d'Austria, all'Austria. Però quattro quinti dell'Ungheria, compresa le norme Transilvania, vengono invece, attenzione, annessi da Solimano e dall'impero ottomano con la capitale storica dell'Ungheria, Buda. Quindi l'Asia si prende tutta la Bohemia, ma si prende attenzione soltanto un pezzettino dell'Ungheria. Gli ottomani, dopo aver invaso l'Ungheria, si fanno estremamente pericolosi anche sotto le mura di Vienna e bisogna dire che appunto Carlo V non combatterà mai direttamente con gli ottomani sul fronte danubiano, sul fronte austriaco e ungherese. Lascerà questa incombenza al fratello Ferdinando, il quale si comporterà molto bene perché nel caso dei due successivi assedi, dopo pochi anni Solimano assedierà Vienna per due volte, in particolare drammatico l'assedio del 1528, Ferdinando riuscirà a cavarsela molto bene, costruendo delle ottime fortificazioni sul confine ungherese e rinforzando anche le mura di Vienna. Ferdinando peraltro nelle sue battaglie contro gli ottomani sul fronte balcanico non avrà mai alcun, dovrà vedersela da solo, dovrà combattere da solo, non avrà alcun aiuto da parte del fratello Carlo V che era impegnato in altre guerre, in particolare il fratello Carlo V, come vedremo, si impegnerà contro gli ottomani da un'altra parte, cioè sul fronte del Mediterraneo. Quindi diciamo che i due fratelli si dividono i fronti di guerra con gli ottomani. Ferdinando continuerà a combattere gli ottomani sul fronte del Danubio, sul fronte balcanico danubiano, mentre Carlo V combatterà gli ottomani, come tra poco vedremo, nel Mediterraneo. Ferdinando viene anche aiutato, proprio in maniera indiretta, dall'impero persiano, dalla Persia che è diventata nuovamente potente, con l'impero sciita, non sunnita, musulmani sciiti, l'impero dei safavidi, perché l'impero dei safavidi metterà in grossa difficoltà gli ottomani e quindi di fatto Solimano il Magnifico rinuncerà ad arrivare sotto Vienna durante il secondo assedio, perché sarà richiamato con le sue truppe velocemente nel teatro di guerra dell'Iran, della Persia, dove gli ottomani stavano perdendo con i persiani. Quindi i persiani indirettamente aiutano gli austriaci, distolgono gli ottomani dalla conquista di Vienna che per molto tempo potrà stare tranquilla, gli ottomani non la attaccheranno più. Queste guerre di Ferdinando d'Asburgo contro gli ottomani sul fronte danubiano sono cose di cui io ho già parlato, le ho un po' ripetute, ma non approfondiamo, perché io ne ho già parlato di queste cose sia nelle lezioni sulla storia dell'Ungheria sia nelle lezioni sulla storia dell'impero ottomano, quindi per maggiori dettagli andate a vedere quelle video lezioni. Però ripeto che appunto Ferdinando, fratello di Carlo V, in quanto re di di Bohemia e d'Ungheria, si comportò molto bene controbattendo in maniera molto efficace all'invasione degli ottomani. La seconda guerra nasce sempre da Francesco I che questa volta crea una vera coalizione internazionale contro Carlo V, sono un po' tutti contro Carlo V perché lo considerano troppo potente, ma come Carlo V è il campione della causa cattolica, eppure il Papa, il nuovo Papa che non è più Leone X ma è Clemente VI, ce n'era stato un altro Papa, c'è un Papa in mezzo tra Leone X e Clemente VI ma non ci interessa, Papa Clemente VI che è il secondo Papa Medici, ricordate che Leone X era un Papa della famiglia dei Medici, Giovanni dei Medici, ma anche Clemente VI, Clemente VI è Giulio dei Medici e quindi Francesco I organizza una coalizione anti-asburgica che viene anche chiamata Lega di Cognac insieme al Papa Clemente VI e poi anche insieme a Firenze, a Venezia, Milano e Genova, quindi anche entità politiche che stracciano tranquillamente i loro giuramenti di fedeltà a Carlo V. Ricordate che Carlo V aveva appena fatto tornare come i suoi vassalli gli sforza a Milano e gli sforza lo tradiscono e combattono contro di lui in questa coalizione. Anche Genova era alleata di Carlo V, comunque insomma lo tradisce. Carlo V non può assolutamente accettare il tradimento del Papa e decide di punire molto duramente il papato che si è schierato contro di lui nella persona di Papa Clemente Clemente VI. Il 6 maggio è una data famosa del 1527, la guerra viene praticamente vinta da Carlo V con un successo che è anche un successo da un punto di vista psicologico e da un punto di vista simbolico molto forte. Carlo V permette ai suoi mercenari 18.000 chiamati Lanzi Chenecchi, Lanzi Chenecchi, mercenari al servizio di Carlo V, di saccheggiare Roma per giorni e giorni. Una cosa che è anche simbolicamente molto forte. Il Papa viene punito davvero duramente. Il sacco di Roma da parte di Carlo V, da parte dei suoi mercenari, i cosiddetti Lanzi Chenecchi, che mettono a sacco Roma e la devastano per giorni e giorni. Una cosa che non si era mai vista se non secoli e secoli prima, con le invasioni dei barbari, poco dopo la caduta, con il crollo dell'impero romano d'Occidente. Dopo il sacco di Roma la Lega si sfalda, per esempio il caso di Genova, Genova con l'ammiraglio Andrea Doria cambia alleanza e siccome era alleato con i francesi, adesso Andrea Doria, che è il capo della Repubblica di Genova, porta Genova ad allearsi invece con Carlo V e con la Spagna. Da questo momento Genova sarà sempre uno stato vassallo della Spagna, di Carlo V, ma poi anche in seguito, dopo la morte di Carlo V, del suo successore come re di Spagna. Andrea Doria e i genovesi metteranno anche tutte le loro risorse, ricordate, cospicue risorse finanziarie e bancarie al servizio di Carlo V. Quindi anche se questa seconda guerra da parte di Francesco I con i suoi alleati è un vero e proprio fallimento, Francesco I deve firmare nel 1529 la pace di Cambrai, la pace di Cambrai che insomma ricalca le clausole della pace precedente del Trattato di Madrid. Francesco I non può che accettare il dominio asburgico, il dominio di Carlo V in Italia. Cosa succede? La questione cattolica, la questione protestante, parentesi, io qui non parlerò nel dettaglio del protestantesimo dei luterani in Germania, perché ne ho parlato durante le lezioni dedicate alla riforma protestante. Quindi diamo per scontato cosa sta succedendo in Germania da un punto di vista politico-religioso per quanto riguarda i protestanti luterani. Il problema è che i Lanzichenecchi che vi ho detto prima non solo saccheggiano Roma ma proprio umiliano Roma, si accaniscono contro i preti, contro le suore, contro le chiese, contro la chiesa cattolica e l'ostentazione esteriore del potere della chiesa cattolica perché molti di questi Lanzichenecchi, forse Carlo I non l'aveva previsto, essendo protestanti, capite? Non solo mettono a sacco Roma ciò che Carlo I voleva, ma umiliano proprio la chiesa cattolica. Questi Lanzichenecchi se la prendono soprattutto con i preti, con monache che vengono violentate, preti che vengono umiliati, che vengono massacrati, chiese a Roma che vengono profanate, altari che vengono distrutti, reliquie che vengono disperse, oggetti d'oro e vari oggetti che vengono appunto derubati dalle chiese. I Lanzichenecchi protestanti scrivono sui muri delle chiese con le loro picche, incidono, capite? Come dei graffiti sui muri, alcuni ancora esistono a Roma delle frasi ingiuriose contro il Papa, contro la chiesa, scrivono viva Lutero, ok? Perché la maggior parte era protestante, ma non erano solo tedeschi, venivano da varie nazionalità d'Europa, ma tutti quanti sfogarono la loro rabbia nei confronti della corruzione della chiesa cattolica che pochi anni prima aveva portato alla ribellione di Lutero e alla riforma protestante. Quindi capite? È un momento simbolico, in importante. Moltissimi protestanti interpretarono il sacco di Roma e le profanazioni da parte dei soldati protestanti come la giusta punizione della chiesa romana corrotta. Una sorta di castigo di Dio nei confronti della chiesa romana corrotta, non solo, ma anche molti cattolici diedero a questo episodio la stessa valenza, la stessa interpretazione. Carlo V non poteva permettersi a lungo un conflitto con il Papa. Carlo V era un campione del cattolicesimo. Carlo V è vero che si era sforzato di trovare un accordo, di conciliare cattolici e protestanti luterani in Germania. Portava avanti l'idea di un concilio ecumenico per una riappacificazione, anche se questo concilio, che poi sarà il concilio di Trento, viene rinviato continuamente, non si apre mai. Però ormai Carlo V si rende conto che i protestanti sono molto forti in Germania, si stanno costituendo delle leghe militari di protestanti, quindi si tratta di combatterli. Lui ha fatto l'errore di mandare soldati protestanti a umiliare, a dissacrare la chiesa cattolica proprio a Roma, e quindi non può permettersi di andare avanti così. Lui ha bisogno del Papa, perché lui è cattolico, vuole appunto imporre l'assolutismo cattolico, un impero universale cattolico in Europa. Quindi fa pace con il Papa, il quale tra l'altro nel 1530 lo incorona imperatore a Bologna. E abbiamo visto la questione protestante, uno dei nemici di Carlo V ormai sono i protestanti tedeschi. Per questo, ripeto, Carlo V non può permettersi di umiliare più di tanto il Papa. La riconciliazione tra cattolici e protestanti in Germania stava fallendo, i protestanti si erano uniti nella lega militare di Smalcalda. Smalcalda. E quindi Carlo V capisce che si tratta di aprire un fronte di guerra civile, un fronte di guerra civile, di guerra interna anche in Germania, contro i protestanti. D'accordo? E quindi Carlo V si trova a lottare su tanti fronti, non solo contro Francesco I, ma anche contro i turchi ottomani, come abbiamo già detto, e anche contro i protestanti in Germania. Allora, la terza guerra tra Francesco I e Carlo V è originata dal fatto che nel 1535 gli sforza, i duchi di Milano della dinastia degli sforza si estinguono e Carlo V ne approfitta per inglobare direttamente Milano. Mentre invece, fino a quell'epoca, in quel momento, come vi ho detto, aveva lasciato gli sforza come i suoi vassalli. Però avete visto che nella guerra precedente gli sforza l'avevano tradito. Insomma, Carlo V ingloba direttamente Milano tra i suoi possedimenti dopo l'estinzione degli sforza. Questo dà, capite, l'argomentazione buona, l'espediente a Francesco I per scatenare la solita guerra. Questa è la terza guerra. Anche qui, questa terza guerra non va tanto bene per Francesco I, anche se Francesco I riesce a invadere, attenzione, sia la Savoia, sia il Piemonte. Perché in realtà i duchi di Savoia, anche essi erano alleati con Carlo V. Comunque, oltre a invadere il Piemonte, Francesco I non riesce a fare più niente. Quindi questa guerra finisce e c'è una tregua di dieci anni. Perché Carlo V termina la terza guerra con Francesco I accettando immediatamente una tregua? Perché vuole la pace con Francesco I per potersi dedicare alla guerra contro gli ottomani nel Mediterraneo. D'accordo? I nemici di Carlo V sono tanti. Diciamo che Carlo V cerca di affrontarli separatamente, cioè uno per volta. Dice, faccio una tregua con Francesco I e ora riverso tutte le mie energie contro gli ottomani nel Mediterraneo. Anpassando notiamo la vera e propria egemonia di Carlo V in Italia. Carlo V non solo possiede il Ducato di Milano e il Regno di Napoli e di Sicilia, ma come abbiamo visto, controlla in maniera indiretta anche altri stati in Italia. Genova si è alleata con lui e di fatto è uno stato vassallo di Carlo V, la Repubblica di Genova. Anche i Savoia erano alleati di Carlo V. Ma succede che nel 1530 Carlo V deve intervenire anche a Firenze per riportare al governo i medici, perché anche i medici di Firenze erano alleati con Carlo V. E proprio per questo motivo la cittadinanza si era ribellata e li aveva cacciati. Carlo V invade Firenze e impone nuovamente i medici al potere. Ma come fanno i medici a rafforzare, a tenere il potere a Firenze? Ovviamente le truppe di Carlo V restano a occupare Firenze, capite? Quindi lui, vedete, l'egemonia veramente forte di Carlo V in Italia. Non ci sono solo stati italiani che Carlo V possiede in maniera diretta, come Milano, Napoli e la Sicilia, ma anche stati italiani che Carlo V domine in maniera indiretta. Genova, la Repubblica di Genova, la Signoria di Firenze e il Ducato di Savoia. Vedete, quindi l'Italia è proprio, diciamo, alla mercè di Carlo V. Abbiamo l'egemonia di Carlo V in Italia. Riesce Carlo V a sconfiggere gli ottomani, tutti gli ottomani nel Mediterraneo, mentre suo fratello Ferdinando stava riuscendo ottimamente a tenerli a bada in Ungheria sul Danubio? Che cosa succede? Succede che la flotta spagnola nel 1535 occupa Tunisi, che si aggiunge ad altre tre o quattro basi che la Spagna riesce a possedere sulla costa della barberia ottomana, degli stati cosiddetti berberi, che erano stati vassalli degli ottomani. In quel periodo l'Europa, l'abbiamo visto parlando della storia dell'impero ottomano, subiva la terribile pirateria saracena che per lungo tempo sarà al comando del famigerato, famoso pirata Barbarossa. Al servizio dei sultani turchi ottomani, Barbarossa aveva la sua base a Algeri ed era anche governatore di Algeri e da lì partivano le spedizioni che terrorizzavano le coste dei paesi cristiani. Carlo V riesce a conquistare Tunisi, però non Algeri e la pirateria in realtà ottomana continua più forte che mai. Carlo V non riesce a sconfiggere davvero gli ottomani nel Mediterraneo. Nel 1538 una lega navale presieduta dalla Spagna di Carlo V, una lega cristiana che comprende anche il nuovo Papa Paolo III e anche stati italiani come Venezia e Genova, questa lega cristiana viene sconfitta dalla flotta ottomana nel 1538 nella battaglia navale di Prevesa. Nulla di fatto nel Mediterraneo. Gli ottomani, anche da un punto di vista navale, sono molto forti. Dal 1542 al 1544 vanno avanti dei negoziati tra Carlo V e Francesco I che sfociano in una pace, la pace di Crepì. Carlo V continua, come ha fatto prima, a cercare la pace con Francesco I per essere libero di combattere un altro dei suoi avversari. La pace di Crepì tra Carlo V e Francesco I infatti ha una clausola segreta, d'accordo? Francesco I non aiuterà più gli ottomani. Ma come? Francesco I, la Francia, erano alleati degli ottomani? Sì, questo scandalizzò tutto il mondo cristiano. Francesco I non esitò a allearsi apertamente con i nemici della cristianità, i turchi ottomani che avevano umiliato i cristiani, i cattolici, cristiani e anche ortodossi, più volte per esempio nei Balcani, arrivando a conquistare anche quasi tutta l'Ungheria. Secondo molti storici, addirittura Solimano si mise in testa, si incaponì di conquistare l'Ungheria, proprio perché l'Ungheria, abbiamo visto attraverso i matrimoni tra gli agelloni di Asburgo d'Asia, alla fine l'Ungheria era diventato uno stato satellite dell'Austria e quindi sarebbe stato Francesco I, capiti a dire al suo alleato ottomano Solimano, conquista l'Ungheria e cerca di assediare, di prendere Vienna. L'accordo tra gli ottomani e la Francia non fu mai messo per iscritto, ma era evidente. Francesco I ne fece di tutti i colori, addirittura cacciò gli abitanti della quartiere del porto di Tolone per ospitare i pirati musulmani, appunto di Barbarossa, che vennero incredibilmente ospitati a Tolone e ne fecero una seconda a Istanbul, aver devastato, saccheggiato le coste cristiane, se ne andavano a Tolone a svernare, a riparare le navi perché Francesco I glielo consentiva. Dopo essere andati via da Tolone, i pirati di Barbarossa devastarono l'Italia meridionale, quindi un'aperta, un'aperta alleanza tra la Francia e gli ottomani. Vedete, i nemici di Carlo V sono difficilmente battibili anche perché si coalizzano tra loro. Secondo una leggenda, il sultano ottomano Solimano il Magnifico si sarebbe legato in alleanza con Francesco I dopo la sconfitta di Pavia, perché la madre, pensate del re Francesco I, scrisse una lunga lettera a Solimano il Magnifico chiedendo il suo aiuto perché suo figlio era tenuto in prigione, Francesco I era tenuto in prigioni da Carlo V a Madrid, quindi c'è questa incredibile alleanza tra francesi e ottomani che già si era manifestata nel Trattato di Crepi, c'è questa clausola segreta, Francesco I non aiuterà più gli ottomani e Francesco I, attenzione, non aiuterà più neanche i principi protestanti, ok? Francesco I promette di non aiutare i principi protestanti e quindi Carlo V si dedica alla guerra con i protestanti. Nel 1545 Carlo V sigla anche una tregua con Solimano il Magnifico, con gli ottomani, quindi ha fatto la tregua con due dei suoi tre nemici, si può dedicare al terzo, Carlo V spera almeno di sconfiggere i protestanti, ok? Che si erano messi insieme, ve lo ricordo, nella Lega di Smalcalda, è la prima guerra civile in Europa per motivi religiosi. Carlo V come al solito vince perché quando c'è da vincere una battaglia in campo aperto lui vince, però poi queste vittorie a cosa gli servono? Nel 1547 i protestanti della Lega di Smalcalda vengono sconfitti nella battaglia di Milberg. I protestanti vengono sconfitti militarmente, ma in realtà questo non serve a niente, è una vittoria inutile, è una vittoria di Pirro. Dopo la sconfitta dei protestanti luterani nella Lega di Smalcalda, la Lega appunto di Smalcalda, la Lega luterana, diventò ancora più forte perché vi erano dei principi che prima non avevano aderito a questa Lega protestante luterana e poi dopo la sconfitta si sentirono in pericolo e quindi principi come il Duca di Sassonia o il Duca di Prussia aderirono alla Lega di Smalcalda e quindi pur essendo stata sconfitta diventava sempre più potente. Attenzione, il Duca di Sassonia era stato uno dei fondatori della Lega di Smalcalda, però poi Carlo V l'aveva convinto cedendogli dei territori a uscire dalla Lega, ma adesso vi rientra. Carlo V capisce che non può sconfiggere i protestanti, ormai mezza Germania, è diventata protestante. Nello stesso 1547, insomma, dopo quattro guerre contro di lui muore il suo antagonista, il re di Francia, Francesco I, d'accordo, il suo successore nuore di Francia, Enrico II, ok? E i protestanti nel 1550 appunto si alleano con Enrico II, pure essendo protestanti luterani non hanno nessun problema ad allearsi con il re di Francia cattolico Enrico II che ripropone poi anche l'alleanza con gli ottomani. Quindi sia pure per proprietà transitiva tutti e tre i nemici di Carlo V sono collegati tra loro. Ad un certo punto Carlo V capisce di non poter vincere davvero, non poter portare a compimento quel suo progetto forse utopistico, veramente impossibile, anacronistico, il progetto di riesumare il potere di un impero universale. Abbiamo una quinta guerra di Carlo V con la Francia nel 1552, la quinta guerra che avviene appunto, a differenza del presente quattro, non più come con Francesco I, contro Francesco I che è morto, ma contro il suo successore, il nuovo re di Francia, Enrico V. A un certo punto Carlo V, che è anche stanco e malato, comprende che non c'è niente da fare e quindi abdica, lascia tutto. Nel 1555 abdica come re di Spagna e nel 1556 abdica come duca d'Austria e imperatore di Germania. Quindi abdica in due fasi, ok? Nel 1555 abdica come re di Spagna, nel 1556 abdica come Asburgo d'Austria e imperatore di Germania. Che cosa succede? Lui decide di dividere il suo impero. Fate molta attenzione, il regno di Spagna lo lascia al figlio Filippo II. A suo figlio, attenzione, Filippo II. Ricordate la concezione dinastico patrimoniale, la sovranità? Il re può gestire i territori come se fossero una vera e propria, un suo bene, una vera e propria proprietà privata, può anche dividerli in due, tra il figlio e il fratello, come Carlo V fa. Il regno di Spagna va a suo figlio Filippo II, che viene anche reso potente dal fatto che, attenzione, ricordate che le fiandre appartenevano all'Austria? Nel suo trattato di abdicazione, il suo documento di abdicazione, invece, Carlo V stacca le fiandre dall'Austria e le dà alla Spagna. Quindi Filippo V non prende soltanto la Spagna, ma anche i territori che derivano dalla divisione della Borgogna, cioè Fiandre, Lussemburgo e Franca Contea, le ricche fiandre. Voi direte, perché Carlo V ha staccato le fiandre dalla Spagna? Ricordate che, in fondo, sua nonna Maria di Borgogna aveva dato le fiandre come dote all'Asburgo d'Austria, però invece Filippo V prende le fiandre, le stacca dall'Austria e le attacca alla Spagna, non solo per rendere la Spagna più potente, ma questo ha una coerenza anche militare, economica, perché le fiandre erano anch'esse strettamente legate alla Spagna nei traffici, negli interessi bancari o nel commercio delle merci che arrivavano dalle Americhe, dalle colonie spagnole. Quindi le fiandre erano strettamente legate alla Spagna per via dei commerci oceanici, per questo Filippo V unisce Spagna e fiandre. Quindi suo figlio Filippo II, che gli succede come re di Spagna, sarà un re potentissimo, perché avrà ovviamente la Spagna con tutti i suoi possedimenti europei, il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, Sicilia, eccetera, ma anche con tutte le colonie che la Spagna ha in tutto il mondo, che nelle Americhe stanno diventando vastissime. E in più aveva le fiandre. Infatti, come Carlo V ha caratterizzato gli eventi politico-militari della prima metà del Cinquecento, suo figlio, re di Spagna Filippo II, sarà destinato a ereditarne la potenza. Filippo II di Spagna caratterizzerà gli eventi politico-militari della seconda metà del Cinquecento, che ruoteranno tutti intorno a lui. Infatti, se andate a vedere la playlist appunto dedicata, con le mie video lezioni dedicata alla seconda metà del Cinquecento, io ho intitolato appunto quelle video lezioni l'età di Filippo II. Naturalmente, andate a vedere tutto quello che combinò Filippo II. Mentre invece, attenzione, il Ducato d'Austria viene lasciato al fratello, avete già capito, Ferdinando, che, come ricordate, era già re di Bohemia e re di Ungheria. Quindi, la Spagna, le fiandre, ha il figlio Filippo II. I territori austriaci, che vi ricordo, comprendono l'Austria, la Carinzia, la Stiria, il Tirolo, la Carniola, cioè l'attuale Slovenia, ma anche, attenzione, la Moravia e la Lusazia, territori tedesco-polacchi, che l'Austria si era presa dal regno di Bohemia. Tutto questo complesso, i territori asburgici, ok, da cui vengono staccate però le fiandre, avranno al fratello Ferdinando, che anche, ve lo ricordo, è già re di Bohemia e di Ungheria. E quindi che succede? Succede che, ovviamente, il fratello Ferdinando, Carlo V era anche imperatore, può essere eletto anche lui imperatore di Germania. La cosa era prevedibile, la cosa infatti avviene. Nel 1558, Ferdinando d'Asburgo prende il posto di Carlo V, anche come imperatore del Sacro Romano Impero. C'è da fare la pace con i protestanti, bisogna accettare i protestanti luterani tedeschi, dare loro la tolleranza, la possibilità di praticare la loro religione nei principati dove si sono affermati. Qui abbiamo la dieta d'Austa, per conciliare, conciliare, si fa per dire, cioè non si tratta di una conciliazione come veleva Carlo V, nel senso che i protestanti si sottomettono, si uniscono, riuniscono la Chiesa Cattolica. Si tratta semplicemente di accettare e dare la tolleranza e la libertà e i diritti anche ai protestanti. Questo avviene durante la dieta, cioè il Parlamento di Augusta, che confeziona una vera e propria Costituzione, una nuova Costituzione tedesca, appunto la Costituzione di Augusta. Pensate che Carlo V non vuole sedersi allo stesso tavolo con i protestanti, non vuole cedere, non vuole mettere la sua firma a una firma che riconosce l'esistenza dei luterani protestanti in Germania e da loro dei diritti, da loro la libertà religiosa. Quindi pensate che al suo posto Carlo V fa presiedere la dieta di Augusta dal fratello Ferdinando. Vi ricordo che nel 1555 Carlo V aveva abdicato come re di Spagna, però ricordate come imperatore di Germania abdicherà solo l'anno dopo, il 1556, quindi durante la dieta di Augusta dovrebbe esserci lui, perché lui è ancora l'imperatore di Germania, ma siccome non vuole sporcare le sue mani con i protestanti, lascia che sia il fratello Ferdinando a trattare con loro, d'accordo, ad Augusta. Viene firmata la pacificazione religiosa con i protestanti, d'accordo, sulla base della famosa frase cuiius regio eius religio. È molto importante perché si tratta della prima volta che in Occidente, quasi la prima volta, vi era stato il precedente degli usiti, degli utracquisti in Bohemia, quasi la prima volta che in Occidente la Chiesa cattolica riconosce ufficialmente un'eresia, un'altra versione del cristianesimo e concede della libertà a un'eresia. Cuius regio eius religio. È una strana forma di tolleranza che non viene data alla tolleranza individuale, no? Un cittadino tedesco in coscienza può decidere singolarmente e personalmente se essere cattolico o se essere protestante luterano. La libertà religiosa viene data a solo i principi, cioè se un principe è cattolico, nel suo principato, Ducato, Contea, quello che sia, tutti devono essere cattolici. Se il principe invece è protestante, l'unica religione ammessa nel suo principato è quella protestante, capite? Cioè è il principe che decide qual è la religione tra le due uniche possibili, cattolicesimo e protestantesimo luterano, ok? Infatti che vuol dire cuius regio eius religio? Significa la religione di colui, eius, cuius regio, la religione di colui di cui regio est, di cui è la regione, ok? La religione del principe a cui appartiene la regione, ok? Questa regione, questo stato, questo principato appartiene a un principe cattolico? Tutti devono essere cattolici. Quell'altro appartiene a un principe protestante? Tutti devono essere protestanti, d'accordo? Non è una tolleranza individuale, però, insomma, poi in seguito, con una revisione della Costituzione di Augusta, sarà data la tolleranza individuale. Ci saranno poi, prima, ci saranno poi altri casi in cui ai protestanti verrà concessa la tolleranza, appunto, la libertà religiosa in forma individuale, famosissimo ovviamente l'editto di Nantes in Francia, che fece questo nel 1614. Cunque, viene accettata l'esistenza del protestantesimo, però attenzione, soltanto nella versione luterana. E questo creerà dei problemi, perché all'inizio in Germania i protestanti erano tutti luterani, però già, già all'epoca della firma della Costituzione di Augusta, si stava diffondendo un'altra forma di protestantesimo, quella dei calvinisti, e alcuni principi tedeschi diventarono calvinisti, ma il problema è che il protestantesimo calvinista, capite, non era riconosciuto dalla Costituzione di Augusta. La Costituzione di Augusta diceva o cattolico o luterano, mentre invece poi si diffonde enormemente anche il calvinismo. Questo darà dei problemi che vedremo in un altro ciclo di video lezioni. C'è un'ultima guerra, pensate, tra Francia e Spagna nel 1557, che dura poco, ok? Che viene condotto ovviamente dagli eredi dei grandi contendenti di cui abbiamo parlato. Quindi la guerra tra Francia e Spagna, l'ultima, almeno per il momento, sarà fatta ovviamente dal nuovo re di Spagna, Filippo II, contro il nuovo re di Francia, Enrico II. Alla fine però si fa una pace che, almeno provvisoriamente, una pace definitiva, diciamo così, tra Francia e Spagna, è la famosa pace di Cateau Cambresi. Mi raccomando, non leggete Cateau Cambresi. Non è un castello, castello si scrive C-H-A e poi con la X finale. Cateau non è un castello, perché ho visto persone che sbagliano senza leggere bene, pronunciano Cateau Cambresi. Non è un castello, si pronuncia Cateau Cambresi. È il nome di un posto che si chiama Cateau Cambresi, ok? La pace in fondo riconosce lo status quo, nel senso che la Francia riconosce l'egemonia spagnola in Italia e la Spagna concede alla Francia tre piazzaforti di confine tra la Spagna e la Francia, che peraltro la Francia già possedeva, quindi diciamo è una conferma, le piazzaforti di Metz, Tulle e Verdun, sono confermate di proprietà francese. Se vogliamo dire proprio l'ultima cosa, l'unica cosa nuova della pace di Cateau Cambresi è che la Francia si prende dall'Inghilterra a Calais. E quindi questo è un piccolo vantaggio per la Francia, si prende il porto di Calais. Cosa c'entra l'Inghilterra? C'entra, perché durante l'ultima guerra, cioè negli ultimi anni che noi abbiamo considerato, l'Inghilterra era scesa in guerra anch'essa contro la Francia, d'accordo? E quindi il risultato è che perde Calais. Era scesa in guerra, attenzione, l'Inghilterra contro la Francia, perché? Perché la regina d'Inghilterra, che governò pochi anni in quel frangente, che si chiama Maria Prima Tudor, detta anche Maria la Sanguinaria Bladimeri, aveva sposato il re di Spagna Filippo II, d'accordo? Lei era cattolica, voleva tornare al cattolicesimo, per questo in Inghilterra non era vista bene, perché gli inglesi volevano restare protestanti. Maria Prima regnò pochissimi anni, poi morì, quindi per un breve periodo accettò di sposarsi con Filippo V, il cattolico re di Spagna, ma il risultato fu soltanto che appoggiandolo in questa guerra, l'Inghilterra perse Calais a favore della Francia. Ricordate che Calais era l'ultimo territorio che era rimasto all'Inghilterra, ve lo ricordate, dopo la sconfitta della guerra dei Cent'anni. Soltanto il porto di Calais, in territorio francese, era rimasto all'Inghilterra. Quindi adesso l'Inghilterra perde anche l'ultimissimo territorio che aveva in Francia. Abbiamo concluso con Carlo V e le sue vicende, spero di essere stato chiaro, spero che non siano state troppo noiose, e le prossime due lezioni di questo ciclo di video lezioni su Carlo V riguarderanno tutta l'economia del Cinquecento. Quindi in questo ciclo di video lezioni intitolato Carlo V parliamo, abbiamo parlato in queste due lezioni delle vicende di Carlo V, però avremo altre due video lezioni in cui vi parlerò di tutti i processi, gli aspetti fondamentali, importanti dell'economia di tutto il Cinquecento, non soltanto della prima parte del Cinquecento. Vi ringrazio, arrivederci. Oggi non c'è Sofia, avete visto che non vi ha salutato all'inizio perché sta dormendo, lo lasciate in pace, ben presto ritornerà tra noi. Arrivederci e grazie.